Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato la squadra dei ministri che lo affiancheranno nel governo al Movimento 5 Stelle PD. Tra i neoministri del territorio c'è la parlamentare piacentina del PD, Paola De Micheli, che è il nuovo ministro delle infrastrutture e dei trasporti e prende il posto di Toninelli. 46 anni, Paola De Micheli vanta una lunga esperienza politico-amministrativa iniziata nel comune di Piacenza, dove ha ricoperto la carica di assessore al bilancio dal 2007 al 2010 col sindaco Roberto Reggi. È parlamentare dall'aprile 2008, rieletta in tutte le successive legislature. È stata sottosegretario all'economia dal 2014 al 2017 nel governo Renzi, poi sottosegretario alla presidenza del Consiglio dal settembre 2017 al giugno 2018 nel governo Gentiloni. Fu nominata commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto nel 2016. Attualmente è vice segretaria nazionale del Partito Democratico, è sposata e ha un figlio di tre anni e mezzo. Gli altri ministri del territorio sono Luciana Lamorgese, ex prefetto di Milano, che sarà il nuovo ministro degli interni, Lorenzo Guerini di Lodi, esponente del PD, nominato ministro della difesa, Elena Bonetti, eletta nelle file del PD nel 2018, professore associato all'Università di Milano, che è ministro delle pari opportunità e della famiglia.